Quando un film d'azzone sulla cucina non basta Fermi, una cosa di Max è pronta ad usarla Ma sei un pazzo Quando la voglia di cucinare è irrefrenabile Quando anche il programma di Benedetta Parodi non può aiutarti Ma che dici, troia Quando sai di non essere il miglior chef del mondo Sai che l'ho fatto solo per il tuo bene Sì, ma non sarò mai re degli chef Sì, potrai esserlo Non batterò mai Gerry Mangione Quando la speranza è l'ultima a morire Ti batterò Gerry Mangione Non mi batterete mai L'azione torna in cucina Cucine magiche Due Tutte le tavole calde della Lucania Cucine magiche Aldo Padalecchia Giano Giu Giaro Mangione Vito Vercingetorici Edgy Kitchen 2 Giorgia